Bella a tutti ragazzi sono Sangue e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi per lo speciale dei 61 iscritti giocheremo a Marvel Spider-Man Di solo su Playstation quindi significa che oggi stiamo giocando dalla Rollo di tamburi Playstation 4 Peccato non la Playstation 5 però ci accontentiamo della Playstation 4 Marvel 2018 Sony Interactive Enert Non è la prima volta che ci gioco Ci gioco da un po' di giorni E oggi giocherò nel video Quindi continua Ok 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 Aspettiamo che carichi Questo è l'incredibile Spider-Man Quella tuta strappata O no Sì perché avevo il costume Era tuta strappata credo Quanto ci mette? Oh finalmente Ok andiamo a fare Andare a quella A quella torre Finalmente un video dalla play Ok E quindi E quindi lo speciale ho scelto di fare questa cosa Vado quest'ora adesso ad attivarla Ah questa cosa vero Non l'avevo già fatto scusate Ma non l'invido Ma non l'invido Annaggia non riesco a salire Allora ok Modifica Modifica Ah questo lo so fare Quindi vediamo un po' Vediamo Ok Prima torre Prima torre fatta Dallo Spider-Minion Sentite questa rima Sono il vostro amico del quartiere Sono il vostro amichevole Spider-Man del quartiere Ci siamo Questa rima Me l'ha detta Alberto Ok Spider-Man Andiamo ad attivare l'altra torre Ah no Devo andare a quello Cosa Certo Saliamo 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 Ok Ok Andiamo Non so se si sente la voce di Yuri Non lo so Non ne ho idea Io l'audio lo sento Però non so se sentite La voce Quello che Il volume del Del gioco Non so se l'ho sentita Ok Sono chieduto Pronti 3, 2, 1 Via Spider-Man 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 Così Deve fare così tante cose Che non riesce a finirla una Tipo qualcosa Non è riuscito Non è riuscito a finirla Ho sbattuto Contro il joystick Ok Sono quasi arrivato POM Sono arrivato La casa Se li vedete scuri In questo momento E' proprio il gioco E' infatti I criminali Vediamo Quelli con la maschera Non so se ce l'avete Questo gioco Ok Vai Spider-Man Ci siamo Non mi devono sparare Miela Oh no Hai rischiato la vita Ve ne siete accorti ora Sono qua da mezz'ora Pure prima Non so Perché si ora ora Ma non è che fa molta rima Questi mi ammazzano Mi curo Aiuto Aiuto Eh sto andando la misura Mi massacrano Guarda E mi massacrano Aia Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Attento Spide 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 Non morire non puoi morire così ho affrontato cose peggiori come quel nemico robotico che non mi ricordo come si chiama ahahah e non ci si tratta spalle dubbi indietro ok sto posto stavolta non devo far vedere ti voglio essere insensi tutti per esempio non mi ha visto ecco non mi stanno vedendo tipo di scagnozio e di scagnozio le guardie di fortnite che ci sono i punti che c'è appunto interrogati stai dicendo come ha fatto a morire svegliati siamo nel 2022 sai sono spiderman è incredibile spiderman non sono avviso niente mi raccomando eh 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 così in giro pom svegliati mi sono nel 2022 come fanno non vedermi è il momento di diventare un eroe più forte no no devo diventare bombastic come mettiamo mettiamo questa guarda guardate questa qui nuovo costume stessi l'ha detto spider man nel gioco oh sono il nuovo spider man freme in senso quella 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 tipo è la più originale però è bella pure questa hop svegliatevi hop 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 deve deve essere è è qua è qui anzi tac tac no l'ho schifato devo andare più sotto e vabbè che 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 mira ho ok un giorno un giorno è qui ma ora mi ha visto addio sono fregato sono fregato aia e addio ma guarda dove mi hanno lanciato i mari mi hanno lanciato stavolta devo girare come un ninja come un ninja eccomi eccomi qua c'è chi è ovunque c'è chi è ovunque ragione spidey qua allora vediamo dove sta acc tac non avete visto niente guardia schifosa Era o pura Era o pura Era o pura Era o pura Esagerato Mi spacchi la testa Una mi ha detto Ti spacco la testa E che sei? No vabbè ma questo è fortissimo Perché dicono queste cose cattive? Ho finito i gatti Oddio sono caduto in acqua Aiuto Aiuto Non capisco più niente Adio la terza volta Muoio Questi ce l'hanno con me raga Nessuno mi ha visto Pam Eh sì No 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 Non l'ho colpito Posso eliminarli tutti così? Senza farmi vedere Me l'ho visto Aiuto 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 Non avete capito Con che avete A che fare Raga se muoio scusate Uno di vita O cinque di metà Raga scusate Sono un po' un nabo Scusate Scusate Sono una tigre Scherza Vabbè scherza Ciao guardia Chi mi dice di morire? Nessuno ha visto Nessuno ha visto Niente Ma adesso mi vedono Aiuto Aiuto Oh Sono un po' un nabo Da 18 minuti Che stiamo vedo Sto ancora Allo stesso livello Quello l'hanno Questo qualche merisco Non ci sono Non ci sono Non ci sono e' momento di rimettere il mio vecchio costume almeno sono lo spiderman classico anche se è danneggio io però voglio questo questo è strano questo non si sa manco cos'è ilberto lo ha così tutti i costumi vedo lui anzi diventiamo più forti cosa lo posso prendere? e' che spiderman un polliciotto antiproiettile riserva spiderman e' fortissimo non riserva un costume antiproiettile andiamo ma vogliamo vediamo vediamo questo no no cosa? oh boh mettiamo spiderman normale questo quello danneggiato non mi avevi visto perchè sono invisibile sono l'uomo invisibile e' che ma per caso non mi vede ma porcazzozzo come ho fatto a vedermi tutti mi hanno visto Ma questi tengono i fuggili della polizia Di GTA Adesso sono i combattimenti seri Sì aiuto Perché la polizia Mi ha tradito Perché c'è la polizia che mi ha sparato All'inizio del gioco Ah ta Prendi questo Aiuto Aiuto Eh sì Aiutatemi Adesso adesso sono un po' un labbo Adesso veramente Devo fare silenzio Tipo questa Non è un'altra L'ho uccisi Ah no Non li ho uccisi tutti Adesso non mi viene Nessuno mi vede Perché sono Spiderman Quello cuore Della sopra Sta male Quanto manco Sono accorto Della ragna Si è là Tu non mi ha visto nessuno Crea un diversivo Un diversivo Un diversivo Non so parlare Aiuto Aiuto Non so parlare Ma quello è cieco Non vede La ragna Tela Quando caricano questa Quando sovrano non caricano mai Ste ragna Della In piante In piante Cospi Si chiamano La niente 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 Aiuto Nessuno Nessuno mi ha visto Nel male Eh sì Però Sentite Ma non mi vedete E mi hanno visto Ma questi che fucili hanno I fucili Ti uccidiamo Spider-Man Voglio nascondermi Aia Io faccio quello che voglio Aia Aia Dalla L'ultima 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 E chiudiamo Il video Scusate Ok Ma come fanno Non mi vedermi Facci Ste ragni Dei Scusate Ahah Questa è la linea Sempre così Allora 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 Mi faccio uccidere No Voglio Voglio Volevo Aspettare Andiamo Ok Non mi hanno detto Non mi hanno visto Non mi faccio uccidere Scusate Un'opera 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 Non mi faccio uccidere Combatto 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 Come combatto Ecco Combatto dal vero Spider-Man Combatto dal Spider-Man ok l'ho ucciso ah no l'ho ucciso però l'ho quasi ucciso questa volta l'ho ucciso almeno spero quello è ancora vivo come fa a essere ancora vivo sto muovendo proprio deve essere che è morto ok ok no 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 spagnoli che campo fai non fa non fa l'ho 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 ma il è l'ho l'ho dai non rai nitele in patto dai nitele in piacere in patto chi lingua sono? tac vediamo se vicino c'è qualcuno ok questo qua è perfetto buongiorno e questo l'ho ucciso no ma l'ho schivato che sfiga come hanno fatto a non vedermi? questi sono ciechi buongiorno no l'ho visto vabbè almeno qualcuno l'ho ucciso di nascosto ninja stavolta non posso non posso morire ta ok questi non sanno con chi hanno a che fare ahia come ti permetti ah ah ogni volta che faccio una kill me lo da perfetto perfetto me l'ho ucciso questo aia io non vado io non vado da nessuna parte devo fare il mio lavoro devo fare il mio lavoro non so la bisca anche spiderman perchè qua ecco è la fine che farete quello che mi fa la bisca l'ho ucciso questo cent'anni sul possibile ancora doveva morire questo l'ho ucciso easy ecco sto recuperando un po' insomma perché sto per morire aia porca sozza ok aspetto la concentrazione questo è il trucco allora camperare aspettare la concentrazione c'è 34 minuti stiamo scuola guarda raga giusto ha detto giusto ma te mi fondamenti salvo non lo lasciamo non due secondi fai a concitazione morziale così mi posso curare marzo scusate ok 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 scusate raga se il video è stata adorando tanto scusate ok è tornato il ragno guana volete dire niente ciao ciao Secondo te Kiwala secondes Kiwala Secondo te Kiwala secondes Adesso gli faccio un bello scherzetta Ah Proprio Ah ma mi hanno visto tutti però Mi stavi di sopravvivere? Ti sbagliavi Sono il nuovo Spider-Man Mi aspettavi? Mi aspettavi? Sono arrivato Ok Ho comportato il suo livello Dovresti sapere che i giustiziari non possono perquisire le proprietà private? Sì lo so Tutti adorano Spider-Man Quindi Quindi Non ho capito dove devo andare Perdonatemi ma non ho capito Eh ok Però dove devo Ok là Andiamo E dove sta quel simbolo giallo? Ok Ok Dove devo andare la Però vorrei capire perché non c'è più sto simbolo Ma lo dite? Perché? Non c'è più il simbolo sai? Quindi non so come cavolo fare? Non so più dove devo andare Ma è come Ma è come Ci diavolo srubare l'auto? Ma no Non è come Ci diavolo Non è come Ma dove devo andare? Aiutatemi Ma dove devo andare? Scusate Dai Però se non mettete il ping E' mai successo questa cosa Poi raga Scusate raga Ok Ok Eccola Devo andare Eccomi E' arrivato a Spider-Man? Raga Fra 5 minuti Chiudiamo il video Perché siamo già da 41 minuti Cosa? Dove è arrivato a Spider-Man? Oh ma te poteva ricavare la mia Scusate Dio che non sto capendo Che devo fare Scusate Ci penso io Scusate 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 Ok. Ragazzi, scusate, ma sto guardando qua, non so se avete sentito il problema. Vai, Mena. Lo sto aiutando. Quindi, questi sono tutti i miei cattoggetti. E questo ce l'ho. La spada del drone non ce l'ho. Boh. Ok. Mena, quanto ci metti? Quanto ci metti? Vabbè ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, attivate una campanellina e ci vediamo al prossimo video. C-I-A-O Saluto dal vostro Spider-Man del quartiere. Ciao. 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 . Ciao. Grazie.